Ciao, ciao ragazzi, ciao, ciao ragazzi, ciao ragazzi, ciao ragazzi, ciao Il video delle gomme è stato un disastro Perché adesso hai rimesso i like pubblici che tanto sei pieno di dislike? You are paid to dislike! Dislike! Hai capito? Ah ma chi ho oggi ho trovato la gomma bucata? Non è un problema Sì ma non devi prendere dei pneumatici economici, tu che hai 20 macchine, quante ne hai? Ma non sono neanche le tue, non sono le tue Diceva un meccanico famoso Se hai le ruote scarse vuol dire che la macchina non le curi Infatti tu non hai nemmeno i soldi per pulire i sedili Questa è la verità, questa è la verità Le macchine non sono le tue Tu non le compri, te le fai prestare Per fare finte sponsorizzazioni E sfruttare la nostra passione in maniera abusiva Questo fai tu Chiaro?